ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale allora oggi vi volevo mostrare la nuova collezione di madame glam io mi sono già preparata il tip con i nomi così che possiamo andare poi come sempre a fare la stesura insieme dei colori ve li volevo mostrare sono 2468 tonalità del periodo quindi sono super invernali adattissime come sempre un immancabile rosso che per le amanti di questo periodo natalizio così va a ruba allora è un rosso scuro non è chiaro io mi sono preparata qua sul mio ipad il sito di modo da poter velo mostrare allora una volta che noi andiamo a ricercare madame glam online sul sito dovrebbe comparirci in automatico una dicitura con scritto se vogliamo o meno a andare a tradurre ok a tradurre la pagina noi schiacciamo traduzione rifatti qua sopra non so se si può vedere c'è proprio il simbolino che è stato tradotto alla pagina così non abbiamo problemi per quanto riguarda invece diciamo i la questione dollaro euro ci tengo a spiegarlo perché in tante mi chiedete allora come vedete ovviamente essendo di new york troviamo il prezzo in dollaro non in euro noi basta semplicemente che andiamo qua e scriviamo convertitore convertitore facciamo dollaro euro noi sappiamo che un dollaro sta a 0 98 euro quindi nel momento in cui magari andiamo inserire qua che ne so per esempio faccio un esempio di un semi permanente viene 9,88 dollari andiamo su dollaro scriviamo 9,88 sappiamo che sono in euro 9 euro e 65 ok scusate che non ero dentro sappiamo che sono 9 euro e 65 di modo che noi facciamo nostri acquisti poi una volta arrivati al carrello abbiamo un totale non lo so di 47 dollari sappiamo che sono circa 46 euro 45 92 perché appunto corrisponde a 0 98 euro un dollaro ok quindi anche questa cosa mi veniva richiesta e ve l'ho mostrata per quanto riguarda tempi di spedizione e abbiamo comunque internazionale che è gratuita sopra i 100 dollari quindi anche qua andate sul convertitore vedete quanto è 100 dollari ma più o meno saranno circa sui 98 euro più o meno poi che altro dire anche qua dice che c'è la spedizione gratuita per tutti gli ordini che contengono due gel nude c'era scritto c'è il black friday in corso anche e tutti i colori sono scontati come vedete da 22 dollari quasi a 9,88 nella metà che altro dire che altro dire la sezione in cui trovare allora andiamo qua ci sono nuovi arrivi noi schiacciamo qua allora qui ti da tutti gli arrivi nuovi altrimenti collezione per collezione l'ultima collezione è questa qua quindi noi schiacciando il nome della collezione troviamo i colori singolarmente che sono 8 appunto o alle volte fanno i cofanetti con i colori insieme ok quindi questa qua è come funziona il sito vi sto dicendo i tempi di spedizione variano molto diciamo che all'incirca ci va un po' di tempo ragazze all'incirca a me ci impiega anche 3 settimane a volte un mesetto dipende per qualsiasi problema voi li contattate perché c'è il servizio il supporto proprio 24 ore su 24 7 giorni su 7 ok quindi li contattate e loro vi rispondono sono sempre stati gentili almeno vi parlo per mia personale esperienza ah un'altra cosa da dire io pago la dogana ragazzi eh sì io pago la dogana dipende più o meno da quant'è perché ci sono sia i oneri postali perché a me arriva con la posta me lo porta il postino e ehm dipende appunto varia tantissimo non vi so dire una cifra precisa però ci sono i oneri postali prima non c'erano eh adesso invece ci sono quindi in base anche penso probabilmente da eh zona a zona anche eh quindi anche questa è una cosa che volevo dire e penso di avervi detto tutto io quindi direi che passo a mostrarvi la nuova collezione ok vado random primo colore il viola scarico il pennello perché c'è veramente tanto prodotto guardate la pigmentazione del colore ragazzi non so se si riesce a percepire ma è veramente 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 molto pigmentato scarico ancora il pennello e tiro bene il colore perché altrimenti eh ci ritroviamo con problemi nella polimerizzazione è un viola molto invernale bellissimo bello 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 dopo lo pulisco bene eccolo qua un'unica passata ed è super super pigmentato vedete che sotto non si vede meraviglioso il secondo colore è un blu molto scuro proprio un blu notte si vede bene? sì e eh anche lui è molto pigmentato quindi mi raccomando passate sottili sottili guardate che bello hanno una consistenza cremosa proprio si stendono divinamente bellissimo colore bello 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 quasi sempre i colori di madame glam ragazzi un'unica passata e abbiamo proprio una coprenza spettacolare vedete? poi abbiamo questa sorta di marroncino nude è un colore caldo molto bello anche lui molto molto pigmentato veramente tanto pigmentato quindi mi raccomando ragazze super super attente con la quantità di prodotto vedete che io scarico bene anche il pennello la polimerizzazione è importante anche inserire bene la mano eccolo qua questo colore invece è particolare perché è un arancione ma non di quelli diciamo non so spiegare proprio il classico a me viene in mente il maione perché ho un maione che è di questo arancione e mi fa subito in realtà molto autunno più che inverno ma è spettacolare anche lui d'altronde come gli altri i fratelli è super 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 pigmentato lui invece è un per intenderci è un senape anche se fa parte della famiglia dei gialli è super 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 pigmentato scarico quindi bene il pennello lo tiro vedete come comunque si stende bene e anche se è tirato non si notano le pennellate quindi si va proprio a livellare prossimo è un grigio ma assolutamente chiaro è un grigio molto chiaro ghiaccio un grigio ghiaccio bellissimo molto pigmentato anche lui quindi attenzione deve avere dentro molto bianco come grigio perché vedete che è proprio è proprio chiaro eccolo qua adesso tocca al verdone meraviglioso anche lui poi io sono di parte lo sapete perché amo le tonalità di verde e questa è molto bella deve avere dentro con lui secondo me un qualcosa di giallo guardate che bello per ultimo la chicca secondo me il rosso quello che vi parlavo a inizio video che non è il classico rosso come vi dicevo ma è un bel rosso scuro bello intenso si stendono una favola ragazzi veramente veramente bene eccolo qua eccoci qua quindi questa è tutta la collezione stesa sono colori meravigliosamente scriventi ragazzi uno tutti quanti un'unica passata sono cremosi si stendono divinamente super pigmentati fatemi sapere qual è il vostro preferito il mio devo dire che forse è il verdone sapete il mio amore per il verde quindi credo che sia il verdone ma sono veramente tutti 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 molto bello anche questo blu scuro è meraviglioso il grigio ghiaccio il senape anche il rosso scuro questo viola tutti belli veramente sono tutti molto molto belli e nulla ragazze io come sempre spero che il video vi sia stato utile che vi sia piaciuto vi rimando sotto nei netflix per trovare il link e il codice sconto del 30% che lo trovate qua e nulla vi mando un grande bacio ci vediamo come sempre al prossimo video